Dopo i 2249 emendamenti presentati dalla Lega e la richiesta di un parere di ammissibilità da parte del capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli, che è stato accolto dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, l'adeguamento della legge regionale 2 del 2019 Commissione Sanità sull'edilizia residenziale pubblica, è stato rinviato alla prima seduta del Consiglio regionale che si terrà nel mese di settembre. Il testo era passato a maggioranza in Commissione Sanità e Politiche Sociali, col voto favorevole del PD, l'astensione di Fratelli d'Italia e il voto contrario della Lega. Un atteggiamento assolutamente incomprensibile perché questo istruzionismo che la Lega sta praticando per la modifica della legge 2, la legge toscana, che è una buona legge, che però va modificata sulla base della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale che ritiene alcune norme che prevedono la impossibilità di accesso alle gradatorie se non c'è una permanenza della residenza in Toscana così come prevedeva la legge per più di 5 anni come norme discriminatorie. Noi abbiamo inteso adeguarci a questa sentenza della Corte, sentenza tra l'altro emessa sulla base di norme vessatorie che alcune regioni amministrate dalla Lega hanno prodotto, sono la Lombardia e l'Abruzzo ad esempio, e anche sulla base della richiesta che tutti i sindaci, Lanci ce l'ha chiesto, perché i sindaci hanno bisogno di pubblicare bandi per rinnovare le gradatorie e aspettano questa modifica per non fare bandi che non siano soggetti ad impugnativa. E quindi ecco perché avevamo inteso approvarla in tempi rapidi. In più i più danneggiati saranno i cittadini, le famiglie che hanno requisiti per poter fare la domanda, che sono al 90% tra l'altro cittadini italiani e che invece dovranno aspettare perché i bandi saranno fatti più tardi. Quindi è un atteggiamento per noi incomprensibile, era stato trovato un accordo in commissione anche con una parte dell'opposizione per trasformare la soglia di accesso in un punteggio premiale, ma che rispettasse comunque il dettato costituzionale. E quindi noi pensiamo che questa cosa sia assolutamente sbagliata e a settembre ci troveremo a riprendere questa discussione e a quel momento lì ad adeguare la legge toscana a quelle che sono le sentenze emesse dalla Corte Costituzionale. D'altro canto dovremo farlo perché per il la Toscana gli alloggi popolari, il diritto alla casa è una priorità che noi abbiamo sempre cercato di rispettare e di affermare anche con atti concreti. Ricordo che nella scorsa legislatura sono stati investiti oltre 200 milioni per quanto riguarda questo settore per dare la risposta ai nostri cittadini. Noi lo giudichiamo opportuno perché approvare una legge che sarebbe stata un disastro sul territorio per noi era sbagliato. Certo se il PD avesse subito ascoltato quello che noi gli chiedevamo e avesse preso in considerazione i nostri emendamenti che garantivano l'uguaglianza di accesso alle case popolari a tutti i cittadini che ne facevano richiesta probabilmente si sarebbe potuto votare e ci tengo a dire che noi eravamo pronti a star lì fino a ferragosto per arrivare a una soluzione. È stata sposta da settembre e io spero che questo tempo sia utile al PD alla maggioranza per valutare l'opportunità che secondo noi diventa indispensabile di inserire criteri che garantiscano le uguali opportunità a tutti i cittadini che fanno richieste e che hanno bisogno. Però quello che noi abbiamo letto in questi giorni sono anche le accuse da parte del PD che ci dice che abbiamo bloccato i bandi sono bugie. I bandi si possono fare la nostra legge è vigente non è impugnata non è oggetto di sentenza quindi tutti i comuni possono fare i bandi. Dirò di più le graduatorie in essere possono scorrere perché ovviamente finché non ci saranno le nuove graduatorie rimangono in essere quelle vigenti. Le case popolari possono essere assegnate e spero che tutti i sindaci ci lo facciano perché ci sono molte troppe persone che aspettano da anni se non da decenni. Noi nella proposta di legge giudichiamo sbagliato intanto un principio fondamentale che è quello dell'uguaglianza per i criteri di accesso al bando. Questo vale non solo per gli italiani e per i toscani ma anche per gli stranieri che qui risiedono da tanti anni perché da oggi con quella proposta di legge se passasse chi è qui alla residenza da un giorno può chiedere l'alloggio popolare. Ovviamente noi italiani come tutti sanno siamo molto controllati dal punto di vista patrimoniale e dal punto di vista finanziario quindi basta un piccolo controllo per sapere se qualcuno di noi chiede la casa popolare e non ha i requisiti per chiederla. Mentre chi arriva è arrivato da un giorno lo deve accertare il paese di origine e questo per un principio di equità non perché come qualcuno vuol far passare siamo cattivi o siamo razzisti perché questa legge penalizza anche gli stranieri che sono qui da 3, 4, 5 anni non solo gli italiani. Quindi vorremmo che il principio di uguaglianza e le pari opportunità con cui tanto il Partito Democratico e la sinistra si sciacqua la bocca si vedessero anche nei fatti partendo proprio da questa legge perché è un tema sociale importantissimo. Ci sono tantissimi comuni che vorrebbero uscire con i nuovi bandi per le case popolari. Noi come Fratelli d'Italia abbiamo fatto un lavoro importante in commissione ovvero quello di inserire la storicità della residenza come criterio premiale nell'assegnazione degli alloggi che secondo noi era la battaglia fondamentale alla luce del fatto che la Corte Costituzionale ha sancito che non può essere un criterio di esclusione. Quindi abbiamo fatto questa battaglia ottenendo in commissione una riforma della legge importante dove appunto la residenza, la storicità della residenza è un criterio premiale così tenendo conto di chi vive, di chi lavora in Toscana, nelle nostre città da anni e non permettendo invece una deriva che vedeva chi arrivava il mese prima avere le stesse opportunità se non di più di chi vive qui da anni. Ma è sempre opportuno approfondire una legge che è così importante che riguarda l'edilizia popolare. La casa per molte persone è un sogno per la loro vita, avere un'abitazione di disponibilità pubblica è importante, è un diritto ma noi dobbiamo anche tutelare ovviamente il nostro patrimonio inserendo anche dei meccanismi di doveri da parte delle persone. Nella scorsa legislatura è stata fatta una legge a mio avviso ottima rispetto all'attribuzione degli alloggi popolari, concertata, discussa, arrivata in fondo, si tratta di migliorarla laddove ci sono dei rilievi della Corte Costituzionale e quindi credo che peraltro noi sosterremo il testo così come è perché comunque comprende anche delle nostre richieste, quello di privilegiare i cittadini toscani che da più anni sono residenti nella nostra regione o che hanno lavorato in maniera continuativa o anche non continuativa per almeno cinque anni con un punteggio aggiuntivo nel meccanismo dell'assegnazione consentendo comunque a tutti di fare domanda dando un principio importante, mantenendo un principio solidaristico importante cercando di assegnare la casa a chi più ha bisogno ma nel frattempo consentire magari anche la cosiddetta classe media di poter accedere e sono quelle persone che magari anche la crisi ha falcidiato rispetto alla difficoltà di conciliare magari un affitto con uno stipendio basso o con le casse integrazioni. La legge andava fatta perché si tratta di sanare oltre che una grave ingiustizia sociale anche qualcosa che la Corte Costituzionale ci avrebbe rimarcato quindi trovo che sia corretta il fatto di rimandarla con degli escamotaggi di emendamenti a settembre ritarda semplicemente l'azione che i comuni possono fare al riguardo quindi questo secondo me danneggia semplicemente lo strato più povero e più bisognoso anche della nostra regione per dei motivi che sono fondamentalmente ideologici e niente più. Sono sorpreso della legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica regione toscana e sono sorpreso da due fattori prevalentemente. Il primo è che la sentenza della Corte Costituzionale non impugna la legge della regione toscana, impugna un'altra legge e noi siamo fermamente convinti che occorre dare le case agli italiani, cioè a chi sta in questo paese da più di dieci anni. Abbiamo sempre fatto questa battaglia, nei primi 100 in graduatoria dell'edilizia residenziale pubblica 70 sono extra comunitari. A maggior ragione in un momento difficile come questo dove c'è tutta una fascia grigia che magari prima aveva due stipendi e che oggi se ne ritrova soltanto uno, che magari prima aveva il sostegno dei genitori e che oggi invece quel sostegno non può più esserci abbiamo bisogno di dare una risposta a chi ha bisogno di case e poi non c'è un centesimo sulla nuova edilizia residenziale pubblica che è un altro grandissimo tema che in questo paese, in regione Toscana, non viene affrontato. Non si costruiscono più case e quello che mi meraviglia di più è che all'interno del piano nazionale di resilienza non c'è un euro per la costruzione di nuove case. Noi fermo il piano case e l'ultimo piano case fatto è del 1974, non sono state più costruite case. Addirittura i dati ci dicono che ci sono centinaia di migliaia di case in Toscana che sono sfitte, che sono vuote o che sono occupate e che i comuni non se ne riappropriano per darlo a chi effettivamente ne ha bisogno. Ecco perché a prescindere da quando arriverà la legge di edilizia residenziale pubblica, la discuteremo molto probabilmente nel primo consiglio regionale di settembre, porteremo dentro quella legge lì un criterio sacrosanto. La casa la deve avere, chi da tanto tempo sta in gradatoria e chi sta in Toscana. Il consiglio regionale ha approvato a maggioranza una mozione presentata dal Partito Democratico prima firmataria Cristina Giacchi che impegna la Giunta ad attivarsi per completare quanto prima i lavori previsti per la messa in sicurezza della Firenze-Pisa-Livorno sul tratto interessato dalla frana di gennaio. Viene inoltre chiesto di concludere le gare necessarie per l'affidamento dei lavori previsti e dunque garantire una circolazione regolare nell'arteria soprattutto nel periodo estivo e limitando per quanto possibile le code di traffico che le chiusure dei tratti di strada inevitabilmente comportano. Devo dire soddisfatta anche dell'approvazione del nostro atto collegato alla comunicazione dell'assessore Baccelli, la mozione del PD che è stata approvata nello scorso Consiglio e che chiede, oltre ad aver accolto i progetti della Giunta regionale, chiede però che con quegli strumenti si realizzino interventi e investimenti definitivi sulla FIPILI. Al di là del modello di gestione, di avere una società in house che si occupa delle strade, ciò che conterà sarà il livello e non solo la quantità ma anche la qualità degli investimenti. Come abbiamo visto di recente nel balletto tra le istituzioni è successo che un finanziamento importante che serviva a risolvere i problemi più urgenti della FIPILI sia di fatto entrato definitivamente nelle casse della città metropolitana soltanto con l'atto dirigenziale ultimo del 13 luglio, pensate, e l'intervento in via d'urgenza non era stato consentito in un primo momento. Quindi è chiaro che gli enti locali erano norme stringenti, forse la società nuova potrà essere una risposta dal punto di vista burocratico, quello che è certo è che deve rimanere alta l'attenzione su un futuro di medio-lungo periodo per quella strada, non soltanto volto a rappezzare di volta in volta e intervenire sulle urgenze. Questo ci è stato assicurato che verrà fatto, questo chiede al governo l'atto del PD approvato nello scorso consiglio collegato alla comunicazione della Giunta. Sono stati spesi centinaia di migliaia di soldi pubblici di fatto per, come dire, cercare di alleviare quella che è una situazione di deficienza strutturale di un'opera che però è strategica, che ad oggi non ha neanche ricevuto il bollino di opera di interesse nazionale perché questo è il vero problema. Noi purtroppo scontiamo una sostanziale difficoltà nella sovrapposizione di competenze tra regione e città metropolitana che non agevola gli interventi che sono spesso fatti in sommorgenza, spesso anche disponendo di risorse importanti. Il caso della Frana è stato emblematico, 4 milioni di euro per risolvere un problema che di fatto però si scontra con la fragilità di un territorio. Quindi di fatto è un grande punto interrogativo quello che sarà il destino di quest'opera, non sappiamo se ci saranno adeguamenti, non sappiamo quando ci sarà la prossima emergenza. Quindi è una situazione di incertezza che però invece l'unica cosa certa è quella del traffico, è quella del calvario a cui purtroppo sono sottoposti quotidianamente gli automobilisti. È un'arteria che meriterebbe diciamo di essere appunto magari collocata tra le opere strategiche di livello nazionale che avrebbe in questo caso consentito magari anche l'utilizzo dei fondi europei. Così non è e ad oggi invece appunto scontiamo ancora delle difficoltà oggettive. Io ho scritto mesi fa IRPET che è l'istituto che studia i flussi della Toscana e IRPET ci comunica che la FIPILIC così com'è costa 100 mila euro al giorno ai toscani in termini di minore chance, minore opportunità e in termini di maggiori costi sociali. Significa che costa su 5 giorni la settimana, 500 mila euro la settimana, 2 milioni di euro il mese, oltre 20 milioni di euro l'anno. Questi sono i costi della FIPILIC. Continuare a avere una delle arterie fondamentali della Toscana in queste condizioni significa dare meno chance, più costi, più pesantezza a tutto il sistema toscano, sia delle imprese, sia dei lavoratori, sia di chi vuole più semplicemente andare a giro, andare al mare, andare in vacanze. Deve essere risolto il problema. Gianni ha lanciato l'idea di Toscana, Strada e SPA. Noi non siamo pregiudizialmente contrari, però che ci dica che cosa vuol fare, perché finora è un fumetto senza nessun tipo di riscontro. Per noi quello che è evidente è che ciò che manca alla FIPILIC, a cui è sempre mancato, è una progettazione di medio e lungo respiro e soprattutto soldi, finanziamenti, appurato che dal PNRR non si possono prendere e che i fondi della regione toscana non bastano. L'unica cosa che si può fare è guardare al nuovo settennato dei fondi europei strutturali e al governo nazionale. Sicuramente creare più poltrone con un nuovo CDA non aumenterà i soldi che già ci sono, piuttosto moltiplicherà le poltrone, cosa che sembra essere uno degli interessi principali di questa giunta, in questa fase iniziale, in questo primo scorcio di legislatura. In tre anni la regione toscana ha messo sulla FIPILIC 43,7 milioni di euro. Dove sono finiti quei soldi? Cosa si è fatto con quei soldi? La viabilità è migliorata o peggiorata? Chiedetelo a chi la fa tutti i giorni, chi sta due ore in coda, chi ancora oggi a causa di una frana è rallentato da oltre due ore. Un anno fa ci sono stati lavori ininterrotti per otto mesi. Chiedevamo da oltre un anno e mezzo di fare i lavori anche di notte, finalmente ci hanno ascoltato e cominceranno a farli di notte. Ma quella è una strada che va non soltanto rifatta, va completamente cambiata perché è un'arteria fondamentale. Siamo contrari al pedaggio. Questo lo diciamo molto forte in termini molto chiari. Se verrà portato una nuova gabella per i toscani, sia per le auto private o anche per i TIR, ma perché penalizzare gli autotrasportatori che quella strada la fanno? Perché quella strada serve un distretto che per la nostra economia vale il 3% del PIL interno lordo della regione toscana che è il distretto conciario di Santa Croce. Un distretto fondamentale in termini economici e in termini occupazionali. Perché dobbiamo penalizzare le imprese che lavorano lì? Ecco perché diciamo no al pedaggio. Sulla società unica noi siamo disponibili a parlarne a patto che non costi un euro in più per le tasche dei cittadini, che non vi siano i consigli di amministrazione dove ci sono le poltrone. E poi la domanda è perché fare una società in house. Oggi la provincia la gestisce in maniera diretta attraverso un bando. Non si capisce perché non lo possa fare la regione toscana. Il festival letterario Trame d'estate torna dal 19 al 22 agosto al Palazzo Mediceo di Seravezza in provincia di Lucca. L'edizione 2021 è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso nella sala del Consiglio regionale. La manifestazione, caratterizzata da giornalismo e letteratura ma anche satira, vedrà come sempre la partecipazione di grandi nomi del giornalismo e della critica. È una manifestazione che è cresciuta negli anni, siamo arrivati alla nona edizione e da una manifestazione spot da pochi appuntamenti è diventata ormai un must dell'estate di di Seravezza e della Versilia. Come amministrazione comunale abbiamo voluto negli anni investire molto nell'ambito della cultura, della rete, delle relazioni culturali e Trame è uno di quegli appuntamenti e di quelle organizzazioni che lo dimostrano. Non ultimo mi piace ricordare appunto che a Seravezza è proprio sede di uno dei comitati nazionali finanziati dal Ministero della Cultura nel 2019. Per la nona edizione di questo festival che si colloca nell'ambito degli studi sulla letteratura e del giornalismo perché il Centro Studi Sirio Giannini, ente promotore di questo festival, focalizza la sua attenzione proprio su queste tematiche. Per questa nuova edizione abbiamo deciso di puntare molto sulla qualità invitando grandi autori e grandi giornalisti, vi faccio alcuni nomi, Luca Bottura, Radio Capital, L'Espresso piuttosto che Ritan Armeni che tutti conosciamo per il suo ruolo alla 7 con Giuliano Ferrara ai tempi di 8 e mezzo piuttosto che altri testate con il quale sta continuando a collaborare. Molta attenzione anche all'ambito proprio della letteratura con due bestselleristi di punta come Gianpaolo Simi e soprattutto Antonio Manzini con la sua ultima opera attualmente in classifica, l'ultima inchiesta del vicequestore più burbero della letteratura italiana interpretato per la TV da Marco Giallini. Ospiti di rilievo in questa carrellata che si propone anche di presentare sul territorio una reading spettacolo dedicata a Pasolini a cura di Pierpaolo Capovilla che molti conosceranno qua, è cantante del Teatro degli Orrori, quindi tutto il panorama indie italiano. Quindi un festival variegato che offre molti spunti di riflessione e soprattutto che vuole portare sul territorio un dialogo, un confronto forte proprio sul palco. Nell'ambito della valorizzazione culturale questo festival trame d'estate si inserisce a pieno titolo tra i più importanti della provincia di Lucca e della regione toscana. È un'opportunità anche di promozione turistica in un luogo straordinario che è il comune di Seravezza, che è a cerniera tra le Alpi Apuane e il mare della Versilia. Noi lo promuoviamo con assoluta convinzione proprio perché la cultura è anche sviluppo turistico ed economico del territorio.